La riforma della sanità, la matera ferrandina, il reddito minimo di inserimento, queste alcune delle questioni affrontate dal Presidente della Regione, Marcello Pittella, che in una intervista esclusiva alla Nuova TV ha illustrato le nuove sfide che attendono la Regione Basilicata. Il referendum del 4 dicembre prossimo, ieri a Potenza l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino a sostegno del no, oggi nel capologo lucano arriva il Presidente Merito della Camera Violante per sostenere il sì. Ogni famiglia lucana spende 247 euro l'anno e produce 349 chili di rifiuti, ma la differenziata è ferma al 27%, a dirlo è cittadinanza attiva. Autismo nel capologo lucano, tre giorni di formazione per medici, fisioterapisti e insegnanti. In concomitanza con la manifestazione promossa a Roma, al Giardino Grazia Gioviale a Potenza, iniziativa della Commissione Pari Opportunità contro la violenza sulle donne. Nello spazio dedicato allo sport, con Manuel Scalese, ampia carrellata sui prossimi impegni di campionato per le squadre lucane di calcio, basket e volley. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV, la riforma della sanità, la condanna della Corte dei Conti sui rimborsi, il giudizio sulla mancata parifica del bilancio regionale e il reddito minimo da gennaio. Queste alcune delle questioni affrontate dal Presidente della Regione, Marcello Pittella, in una intervista esclusiva alla nuova TV a cura dei colleghi Celestino, Benedetto e Fabrizio Di Vito. Vediamo nel servizio riepilogativo di Mara Riesola un estratto dello speciale e-news. Continuerà a fare il Presidente, a provare a far crescere la Basilicata, nonostante il consiglio contrario dei colleghi medici. Nonostante mal di pancia interni al suo partito democratico e a quella maggioranza che cerca di fare il gioco del più uno. È un Presidente a tutto tondo quello che ha partecipato allo speciale di approfondimento in news della nuova TV. Marcello Pittella ha risposto alle domande dei colleghi Celestino, Benedetto e Fabrizio Di Vito. A partire dalla condanna della Corte dei Conti su rimborsi, oltre al giudizio sulla mancata parifica del bilancio regionale. Le esprimo in tutta franchezza la mia assoluta serenità rispetto alla vicenda. Perché ha una genesi particolare che purtroppo non tutti conoscono. E la genesi è l'esistenza, all'epoca dei fatti, di una norma, di una legge regionale che riconosceva per l'esercizio della funzione politica ai consiglieri regionali un budget annuale. In quattro anni noi abbiamo sempre raggiunto l'obiettivo della parifica. Andremo a variare il conto consuntivo e modificheremo le voci e così come recupereremo tutte le sottolineature che la Corte dei Conti ha fatto in modo tale da poter essere sereni e andare avanti. Il Presidente ha poi commentato il risultato ottenuto con il finanziamento della Matera Ferrandina per poi passare al reddito minimo in arrivo da gennaio. Io sono contento che è stato finanziato la Ferrandina Matera. Il tempo ci dirà, e io mi voglio augurare, che quella struttura ferroviaria serva realmente. Stiamo lavorando esattamente per accelerare e chiudere con la firma e dare via di fatto, concretamente al reddito minimo e a tutte le altre... Possiamo a zardare una tempistica un po' più certa? Io provo a chiudere entro fine anno, per gennaio dovremmo partire. In conclusione la riforma sanitaria. Tutto ci si può chiedere, tranne che affidare così in maniera inerme ai direttori generali la riconversione senza una norma più compiuta. Come hanno fatto le altre regioni. Dobbiamo decidere, se abbiamo il coraggio e il petto, di dire e di spiegare il perché, tranquillizzando tutti i territori che sono, diciamo così, in protesta, che nulla si toglie lì, che nulla si tocca, si mette in rete. E vi ricordo che l'intervista integrale al Presidente della Regione, Marcello Pittella, potrete rivederla in replica oggi sulla nostra emittente alle 15.30 e alle 21.00. Ora parliamo del referendum del 4 dicembre prossimo. Ieri a Potenza l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, a sostegno del Nocon. La riforma costituzionale ha detto che i cittadini saranno privati della sovranità popolare. Sentiamo i dettagli da Carla Zita. Non può e non deve essere un voto sul governo Renzi, quello che i cittadini sono chiamati ad esprimere con il prossimo referendum del 4 dicembre sulla riforma costituzionale. Per Ignazio Marino, già parlamentare ed ex sindaco di Roma, sostenere il No significa difendere soprattutto la democrazia. Lo ha spiegato a Potenza, dove è stato accolto dal sindaco De Luca su invito dei democratici per il No, tra cui il capogruppo PD in Consiglio Comunale, Giampiero Iudicello, nel corso della sua prima tappa delle tre in programma in Basilicata. All'ex sindaco è stata espressa la solidarietà umana e politica per la nota vicenda su Mafia Capitale, quando, come ha spiegato Iudicello, il partito avrebbe dovuto aiutarlo a governare e non a demolirlo per consegnare la città ai populismi ed ai dilettanti. Marino, prima di raggiungere Lavello e dall'Imatera per altri incontri pubblici, ha poi spiegato i diversi motivi per cui votare no. Non è vero che si abolisce una Camera, è una bugia, perché il Senato rimane, costerà praticamente lo stesso e i senatori non li potranno più eleggere i cittadini e quindi i cittadini saranno privati della sovranità popolare. I senatori li sceglierà il ceto politico e i consiglieri regionali si chiuderanno in una stanza e diranno tu fai già il Presidente, tu fai l'assessore, a lui gli facciamo fare il Senatore e così avrà l'immunità e i rimborsi spesa per passare quattro giorni alla settimana a Roma. Poi ogni regione ha dei motivi particolarmente validi per votare no. Io credo che chi tiene a questa terra, chi tiene alla democrazia, alla sovranità popolare, dei cittadini della Basilicata debba votare no perché è giusto che il popolo della Basilicata faccia le proprie scelte in materia energetica. Sul post referendum invece? Non ho suggerimenti da dare, io non credo che dobbiamo votare su Matteo Renzi, noi dobbiamo votare sulla nostra Costituzione e dobbiamo avere anche l'umiltà di pensare che ci sono dei documenti e dei valori come la Costituzione della Repubblica Italiana che sono al di sopra di tutti noi. E si mobilita il fronte del Sì, nel pomeriggio arriva a Potenza il presidente merito della Camera Violante, lunedì poi farà tappe in Basilicata il cammino per il Sì promosso da Tobia Zevi. Sentiamo. In vista del prossimo 4 dicembre proseguono in Basilicata gli incontri con importanti personalità della politica nazionale. Questo pomeriggio sarà la volta di Luciano Violante, il presidente merito della Camera e autorevole e sostenitore del Sì al referendum. Parteciperà all'iniziativa Le ragioni del Sì promossa dal comitato Sì per il Sud, in programma alle 17 nella Sala Minerva del Grande Albergo. L'incontro sarà moderato dalla giornalista lucana Francesca Barra. Il cammino per il Sì promosso da Tobia Zevi arriverà invece in Basilicata il 28 novembre con tappe a Potenza e a Viglia. Ho scelto di camminare, dichiara Zevi, per sostenere il Sì al referendum perché è il miglior modo per sostenere la propria idea e avere il coraggio di testimoniarla anche con la fatica fisica. Abbiamo scelto questa campagna elettorale alternativa cioè di camminare innanzitutto perché camminare si cammina sempre verso qualcosa e mai contro qualcuno e invece questa campagna elettorale rischia di trasformarsi in una derby tra tifoserie opposte e poi anche perché camminando si ha la possibilità di parlare con le persone, incontrarle nei territori dove queste vivono, lavorano, soffrono, si impegnano e quindi fare qualcosa che la politica fa con una certa difficoltà e che invece secondo me è decisiva per vincere questo referendum. Io ancora non sono andato al Sud, noi faremo la tappa del Sud, cominciano il 26 di novembre, fino ad adesso abbiamo fatto il Nord per ragioni climatiche e come si vede erano giuste considerazioni visto che oggi abbiamo preso il diluvio e quindi spero di trovare tante persone lungo il percorso anche al Sud, qualcuna d'accordo, qualcuna che magari riusciremo a convincere. Devo dire che quelli che ci vedono arrivare, anche quelli che votano no, alla fine prima ci guardano con un po' di diffidenza ma poi si convincono e si divertono anche, quindi forse questa è una cosa che funziona. La tappa lucana del Cammino per il Sì prevede un primo step ad Avigliano alle 10 dove ad accogliere Tobia Zevi ci sarà l'assessore allo sport Angelo Summa. Nel pomeriggio alle 16 in programma un incontro in Piazza Mario Pagano a Potenza con i comitati per il Sì locali. A seguire un incontro con la stampa al Grande Albergo alla presenza dei comitati in Lucana e per il Sì, Generazione Sì Potenza Matera, basta un Sì Basilicata Giovani e i socialisti per il Sì. E siamo alla cronaca accolto per l'ennesima volta in possesso di stupefacente da cedere a terzi, la polizia ha arrestato in flagranza di reato a Potenza un minore di 17 anni deteneva circa 70 grammi di marijuana da cui si sarebbero potute ricavare circa 400 dosi. La droga è stata scoperta dalla polizia durante una perquisizione nell'abitazione del giovane eseguita nell'ambito di una serie di controlli nel capologo lucano in luoghi abitualmente frequentati da adolescenti e minorenni. Ogni famiglia lucana spende 247 euro l'anno e produce 349 chili di rifiuti, ma la differenziata è ferma al 27,6% e questo è il quadro che emerge dall'annuale rilevazione dell'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva. Sentiamo i dettagli da Michelangelo Russo. 247 euro a famiglia, a tanto ammonta in media il costo del servizio di smattimento dei rifiuti solidi urbani in Basilicata, dove si registra una diminuzione del 22,7% rispetto al 2015. Confrontando i singoli capoluoghi di provincia, Potenza si rileva la città più economica 224 euro all'anno più 1,4% Matera la più costosa 271 euro che registra una diminuzione di 148 euro rispetto al 2015, meno 35,3% e se a livello nazionale la raccolta differenziata è arrivata nel 2014 al 45,2% più 2,9% rispetto al 2013 la Basilicata si ferma al 27,6% più 1,8% e lo smattimento in discarica subisce in regione un decremento del 5% e questo è il quadro che emerge dall'annuale rilevazione dell'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva che per l'ottavo anno consecutivo ha realizzato un'indagine sui costi sostenuti dei cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prendendo come riferimento nel 2015 una famiglia tipo composta da tre persone con un reddito lordo complessivo di 44.200 euro ed una casa di proprietà di 100 metri quadri per quanto riguarda la produzione pro capite di rifiuti urbani la media più elevata è quella del centro Italia 547 chili segue il nord con 496 chili ed infine il sud con 443 in Basilicata invece ogni cittadino produce in media 349 chili di rifiuti l'anno a Potenza da lunedì 28 novembre alle 10 torneranno ad essere percorribili per pedoni e automobilisti due delle principali strade di cittadine del centro storico via Vescovado e via Caporella ad annunciarlo il vice sindaco e assessore alle opere pubbliche Sergio Potenza il comune rende noto inoltre che via Vescovado sarà percorribile temporaneamente in senso inverso rispetto a quanto accadeva in precedenza con le auto provenienti da discesa a San Gerardo che dovranno svoltare a sinistra e proseguire verso via Scafarelli ed ora ci fermiamo per la pubblicità Global Service società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa per informazioni via della tecnica 24 80500 potenza 0971 19 40 572 info chiocciola global service sociale punto it segnala ingiustizie di servizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG contatto diretto con la nuova TV manda foto e video al nostro numero whatsapp 346 8353 824 e dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG si chiuderà domani lo stage di primo livello promosso a potenza dall'Aias e dedicato al trattamento dei disturbi dell'autismo al Museo Provinciale di Potenza medici fisioterapisti e insegnanti hanno preso parte al percorso formativo affidato all'esperienza del professor Alessandro Frolli ce ne parla Mariolina Notargiacomo tre giorni di formazione con una vasta e variegata platea di professionisti nella sede del Museo Provinciale di Potenza fisioterapisti logopedisti psicologi medici insegnanti e terapisti hanno preso parte allo stage promosso dall'Aias del Capoluogo e dedicato al trattamento dei disturbi dell'autismo molteplici gli argomenti trattati dal professor Alessandro Frolli un esperto per le sue numerose esperienze anche all'estero e meglio sviluppati grazie alla dinamicità dei metodi scelti da Frolli che hanno impegnato i partecipanti anche nell'ambito di laboratori e lavori di gruppo la supervisione scientifica è stata affidata alla dottoressa Maria Enrichetti dirigente qualità sanitaria dell'Aias di Potenza di fronte ad una patologia così complessa è necessario anche utilizzare delle strategie adeguate oggi con l'avvento delle linee guida dell'istituto superiore di sanità è stato possibile anche favorire in Italia l'avvento dell'EBA dell'analisi applicata del comportamento che rappresenta una risorsa utile e preziosa rispetto al trattamento e la gestione dell'autismo e l'Aias a Potenza ha rappresentato sicuramente una delle entità che si è voluta formare si è voluta impegnare rispetto all'utilizzo di questa nuova metodologia proprio attraverso questo convegno stiamo cercando di dare un primo approccio agli operatori e alla formazione degli operatori in questo senso i vaccini hanno un ruolo di attivatori in soggetti geneticamente predisposti però non esserci la vaccinazione ma un insulto immunologico come una brutta infezione un'otite una gastroenterite particolarmente intensa che comunque in un soggetto geneticamente predisposto induce poi l'attivazione della catena specifica per l'autismo quindi non è il vaccino l'unico elemento che può portare allo sviluppo di autismo il vaccino può portare allo sviluppo di autismo in un soggetto geneticamente predisposto quindi bisogna informare bene il genitore e dire che non è la vaccinazione la causa dell'autismo la vaccinazione può essere un fattore di innesco in un soggetto geneticamente predisposto la vaccinazione può cioè devo attivare la catena ma se non ci fosse la vaccinazione comunque in un soggetto geneticamente predisposto ci sarebbero altre cause la cura per l'autismo non è l'antivaccino la chelazione la dieta eccetera eccetera la cura per l'autismo è soprattutto la riabilitazione è l'intervento intensivo l'intervento precoce basato su strategie adeguate per dire no alla violenza sulle donne stamane a potenza iniziativa della commissione pare opportunità nel giardino intitolato a grazia gioviale sentiamo Carla Zita il 27 aprile del 2009 in un appartamento di Tito una giovane potentina grazia gioviale fu assassinata dall'uomo che diceva di amarla a lei e dalle numerose troppe vittime della violenza degli uomini sulle donne come la sedicenne potentina Elisa Claps uccise il 12 settembre del 1993 da Danilo Restivo è stata dedicata alla manifestazione con lettura di brani e poesie svoltasi nel giardino dedicato a Grazia nel rione potentino di Poggio Tre Galli all'indomani della giornata dedicata alla lotta contro il fenomeno in crescita negli ultimi anni la commissione regionale pare opportunità insieme ad associazioni e sindacati con la partecipazione dell'amministrazione comunale ha promosso l'iniziativa con l'obiettivo di ricordare le tante donne vittime di violenza e mantenere alta l'attenzione sul fenomeno che va denunciato e contrastato promuovendo un necessario cambiamento culturale ed anche nuove leggi nel giardino dedicato a Grazia Gioviale è prevista anche una nuova panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne siamo a Poggio Tre Galli ma siamo a potenza soprattutto per vivere e rivivere la manifestazione che si sta tenendo a Roma abbiamo infatti tenuto a farla nello stesso orario della manifestazione di Roma proprio per unirci al grido contro la violenza contro le donne e farlo in questo giardino ha un significato particolare perché questo giardino è dedicato a una vittima di femminicidio soprattutto deve essere da monito per tutte le altre donne un invito diciamo alle donne a in qualche modo a ribellarsi a qualsiasi forma di violenza anche se è un momento molto semplice credo abbia creato tante emozioni questa mattina soprattutto anche perché è presente la famiglia di Grazia Gioviale e anche la la famiglia Claps ha lasciato un messaggio da lanciare oggi ed è stata celebrata ieri con diverse iniziative in Basilicata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne a Senise dopo l'inaugurazione della panchina rossa si è tenuto un incontro sull'amoricidio la morte dell'amore sentiamo Cristina Libonati Amoricidio uccisione dell'amore così è stato titolato l'incontro svoltosi a Senise in occasione della giornata mondiale della violenza contro le donne dopo l'inaugurazione della panchina rossa in via Alcide dei Gasperi il dibattito è proseguito presso il teatro Agora una scelta non casuale quest'anno infatti è stato il corto teatrale del regista Leonardo Chiorazzi ad arrivare al cuore prima delle parole un momento di riflessione e di analisi magistralmente interpretato dagli attori della SAMS nel suo intervento il comandante della compagnia dei carabinieri di Senise il capitano Marco De Jesu ha sottolineato quanto sia importante denunciare e non attendere la reiterazione nel tempo e quanto fondamentale possa rivelarsi in questi casi il ruolo di chi vive accanto alle vittime di violenza violenza di genere che non è solo fisica o psicologica ma anche economica così come ha spiegato nel suo intervento la consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi che ribadendo l'importante ruolo dei centri antiviolenza ha fatto sapere che il governo nazionale per questo tipo di attività ha destinato 300 mila euro alla regione Basilicata in chiusura qualche appuntamento previsto oggi in Basilicata a Matera Palazzo Lanfranchi alle 18 incontro sulla pittura di Carlo Levi a Potenza auditorium del conservatorio Gesualdo da Venosa alle 18 manifestazione di solidarietà Potenza per Amatrice ancora a Potenza circolo culturale gocce d'autore in via Pretoria alle 19 inaugurazione della personale di fotografia di Attilio Bixio a Brienza sala ex refettorio del comune alle 19.30 giornata dedicata alle donne con la presentazione del romanzo Io non ho sbagliato a Potenza da Scambio Logico in piazzale Istria alle 19.30 lo spettacolo la rivolta contro i poveri a cura della compagnia abito in scena nell'ambito del festival la città delle 100 scale lo spettacolo verrà replicato anche alle 20 e alle 23 e 30 e ancora a Potenza Teatro delle Canossiane via Ettore Ciccotti alle 20 reading musicale organizzato dalla libreria Paoline e da parte mia è tutto ora la linea a mano della scalese per lo sport grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata ben ritrovati dalla redazione sportiva della Nova TG in primo piano come sempre il calcio e la Lega Pro con le due squadre lucane impegnate nel girone C che domani scenderanno in campo per il quindicesimo turno della terza serie nazionale con il Matera atteso dal big match contro la Juve Stabia mentre il Melfi affronterà il Monopoli il Matera ha più da perdere rispetto alla Juve Stabia perché se i campani possono essere considerati una sorpresa in questo girone ecco che i lucani puntano senza mezzi termini al salto di categoria con la gara del 21 settembre che appare in questo momento essere da tripla ed aperta ad ogni risultato il Matera proprio in avanti ancora incerottato con Auteri che contro la Juve Stabia non potrà che far scendere in campo negro carrette strambelli peccato solo che i biancazzurri domenica non potranno contare su Sartore Luzzada Bifulco Infantino e Papini a queste assenze ovviamente andrà ad aggiungersi quella di De Rose squalificato dopo il rosso di Andrea il Matera si affiderà anche ad Armellino e Iannini due giocatori con il vizio del gol e che con le loro pennellate giocate ed incursioni potranno far male alla Juve Stabia non sarà facile battere il Monopoli per due semplici ragioni la prima attiene alla forza propria dell'avversario di turno che è in possesso di una squadra che sta viaggiando a buon ritmo la seconda ragione è direttamente legata al fatto non trascurabile che il team giallo-verde del Nord Basilicata sarà ancora una volta costretto a scendere in campo con una formazione incompleta restano fuori per infortuni i vari difendi Pompilio e Gammone ma al contrario potrebbero recuperare Mangiacasale uscito fuori da un lungo infortunio e Lanzaro che anche egli frenato da una condizione fisica non proprio adeguata in ogni caso le chiavi del controcampo saranno affidate a Cittadino dai suoi piedi innanzitutto dovranno partire i palloni più utili per il duo Devena-Foggia gli unici attaccanti federiciani del momento e scendiamo di categoria perché domani si gioca anche in Serie D con le 4 Lucane impegnate nel Girone H che scenderanno in campo per il tredicesimo turno della quarta serie nazionale vediamo dunque come stanno vivendo la vigilia dei rispettivi match Potenza Francavilla Vulture Picerno in ripomeriggio i giocatori rosso-blu allenati da Mr. Biagioni hanno iniziato a prendere confidenza con il nuovo manto artificiale dello stadio Viviani lasciandosi alle spalle Brienza per provare a ripartire verso l'alta classifica questa mattina si è svolta intanto l'inaugurazione del nuovo green di Viale Marconi e nell'ordine c'è stata prima una benedizione religiosa da parte dell'arcivescovo della diocesi di Potenza e poi quella pagana che ha visto i dirigenti rosso-blu insieme ai giocatori presentare le nuove maglie con tanto di piccolo San Gerardo protettore stampato in petto dopo il taglio del nastro ed il saluto dalle attese autorità politiche la palla anzi il microfono è passato ad Oberdambiagioni che nella conferenza stampa pre-match si è presentato ai tifosi e alla stampa per chi se lo fosse dimenticato domani si scende in campo ed il Potenza è atteso dal derby contro i cugini amici della Vultur con questa partita che storicamente inaugurerà il Viviani giornata di derby quella del girone H con il Francavilla che se la vedrà al fittipaldi contro il picerno di mister Arleo che incrocerà le armi con il suo amico di lunga data Rancolazic buone notizie intanto per Alex Matinata che nel giro di poche settimane potrebbe ritornare a disposizione del tecnico serbo dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori fino ad ora intanto il club sinico già da tempo si sta guardando intorno e si prepara ad assestare tre o quattro colpi di mercato e nei piani della dirigenza Rosso-Blu dovrebbe esserci almeno un acquisto per reparto la Vultur si presenterà in un Viviani in festa con una squadra ampiamente incompleta di sicuro oltre all'infortunato centrale Carrieri ci saranno le assenze dei calciatori che hanno già lasciato o starebbero per farlo il club Vulturino Salvia, Mancini e Normanno tra gli altri quanto al potenziamento della rossa si dovrà giocoforza attendere la riapertura del calciomercato a partire dal primo di dicembre sarà un picerno vistosamente incerottato quello che domani affronterà il Francavilla con tutta probabilità saranno cinque le defezioni cui dovrà fare fronte mister Arleo sicuri assenti Esposito e Palumbo per squalifica Lolaico e Agresta per infortunio e anche Giannotta sarà con tutta probabilità out per questo mister Arleo si vede costretto a ridisegnare l'undici titolare in difesa farà rientro milioni e tra i probabili titolari dovrebbero esserci anche Lancellotti e De Cristofaro ottime chance di partire dal primo minuto anche per disenso in ripresa dal calcio giocato facciamo un balzo fuori dal campo perché nella giornata di ieri l'allenatore della nazionale albanese di calcio Gianni De Biasi è stato ospite a Potenza dove ha ritirato il premio Mancinelli quest'estate sono stato molto vicino alla panchina dell'Italia ha dichiarato De Biasi e per un italiano allenare la nazionale credo che sia una cosa straordinaria oggi l'Italia però è in buone mani e Ventura farà sicuramente bene ha dato i primi segnali ed è sulla buona strada lo ha detto il commissario tecnico dell'Albania Gianni De Biasi in serata Potenza dove ha ricevuto il premio Alfredo Mancinelli sportivo lucano e più volte allenatore del Potenza anche in Serie B la sfida con l'Italia del prossimo 24 marzo a Palermo ha aggiunto De Biasi sarà una partita particolarissima perché lo è da italiano giocare contro la propria nazione è una partita che ha un significato importante perché c'è in palio la qualificazione per il mondiale cercheremo di fare il massimo chiaramente sarà una partita come tutte le altre ma con dei risvolti particolari e chiudiamo l'ampia pagina dedicata al calcio passando agli appuntamenti sportivi del weekend partendo dalla Serie A2 di Calcio A5 perché continua la corsa della Final 8 per l'Avis Borussia Policoro ostacolo della decima giornata è la Salinis di Domenico Lodispoto nello stesso girone invece la giovane formazione del Real Team Matera torna a calcare il parquet della tenzostruttura di Viale dei Senniti ospite per la decima giornata di campionato il San Michele per la decima giornata del campionato nazionale di Serie B di Calcio A5 girone F lo Challenge Soccer potenza ospita al Palapergola il comprensorio medio basento per il derby Lucano il rasulo edilizia Bernalda invece a caccia della seconda vittoria consecutiva al Palacampagna contro il Polisportiva Futura passando alla Serie A2 di volley maschile invece con la Geosat Basi Lago Negro che ospita Ortona per il settimo turno del campionato nazionale di Serie B maschile girone H la giocoleria Virtus Potenza è attesa dall'Udas Volley Cerignola e dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana il centro Cos Potenza torna a giocare alla palestra Caizzo per la settima giornata del campionato nazionale di B2 femminile contro la formazione calabrese del cuore volley Reggio Calabria e chiudiamo con il basket perché per la nona giornata di Serie B l'Olimpia Matera sarà impegnata lontano dal Palasassi contro il Rimini e con il programma degli appuntamenti sportivi del fine settimana si conclude il nostro ampio focus inerente a tutte le discipline sportive lucane rimandando l'appuntamento alla prossima edizione del Tg grazie mille per essere stati con noi buon weekend e buon proseguimento con la programmazione della nuova tv grazie mille per essere stati sull'Italia la pressione è in graduale aumento e questo favorisce un generale miglioramento dopo il forte maltempo che ha colpito tutta la penisola ma soprattutto Piemonte e Liguria la tregua non durerà molto almeno per le regioni adriatiche in quanto da lunedì saremo colpiti da una massa di aria fredda che provocherà un sensibile calo termico la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare su tutta la nostra regione con possibilità di locali fenomeni soprattutto nelle zone più meridionali specie ai confini con la Calabria nel pomeriggio il miglioramento dovrebbe stendersi anche a queste zone per l'allontanamento della perturbazione che ci ha interessato ieri i venti saranno assenti o di debole intensità e tenderanno a ruotare a nord a partire dalle zone settentrionali il tirreno sarà poco mosso lo ionio risulterà ancora mosso le temperature saranno in lieve calo nei valori minimi e stazionari e in quelli massimi mantenendosi ancora di molti gradi al di sopra delle medie potenza 8 le minime 14 le massime matera 12 le minime 17 le massime previsioni per domani su gran parte della nostra regione avremo condizioni meteorologiche accettabili seppur con presenza di una nuvolosità irregolare non sono previste precipitazioni significative e il sole dovrebbe parzialmente interessarci specie nelle zone più settentrionali dalla sera tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle zone tirreniche e di solito e di solito Grazie a tutti.